Cosa sono gli articoli abrogati della Costituzione? Alcuni articoli della nostra Costituzione col tempo sono stati superati e sono stati abrogati. E' stato mantenuto il numero dell'articolo che è stato abrogato e negli articoli che sono stati abrogati, il testo vigente è abrogato, articolo abrogato, per far comprendere che precedentemente vi era un articolo di lecce della nostra Costituzione che è stato col tempo abrogato. Ciao al prossimo video, vi aspetto! Partie realizzate in vedeksi! Facciamoci! Grazie a tutti.